Il 27 settembre è iniziata la votazione sull'aggiornamento del non statuto e del regolamento del Movimento 5 Stelle. È un momento importante per tutti gli iscritti ed è fondamentale che tutti partecipino alla votazione, che chiuderà tra pochi giorni, il 26 ottobre. Ciascuno potrà dire la sua su delle importanti regole organizzative che determineranno la vita del Movimento da qui in avanti. Siamo l'unica vera forza politica basata sulla partecipazione di tutti. Perciò non far mancare il tuo voto.